Sono Emanuele Zampetti di Eremone Edizioni, una casa editrice presente quest'anno a Più Libri e Più Libri nella nuova location della nuvola. Siamo in libreria, è stata fondata la casa editrice nel 2004, precisamente nel mese di luglio. Il settore di riferimento inizialmente era improntato sul misteri, quindi tutto ciò che riguarda la parola mistero, quindi l'archeologia misteriosa, tutti gli aspetti meno conosciuti sia della storia che dell'antropologia. Poi man mano ovviamente la casa editrice ha trapreso vari percorsi di pubblicazioni diversificando la sua produzione, quindi si è andato adesso anche su qualcosa per ragazzi, quindi più fantasy, fino ad arrivare a pubblicare libri di narrativa che inizialmente non erano contemplati nel nostro catalogo. Narrativa varia, pubblichiamo soprattutto storie riguardo la fantascienza, il thriller e il fantasy, con riferimenti però anche molto, quindi dal punto di vista storico, riferibili, insomma eventi effettivamente accaduti, quindi niente. Ultimamente proprio nell'ultimo anno ci siamo aperti anche ad altri tipi di, l'ultimo titolo che è andato moltissimo è Borderline, la storia di un ragazzo interrotto che parla di una storia personale molto toccante e sta avendo molto successo tra il pubblico, quindi comunque è un genere completamente diverso da quello che nel 2004 c'eravamo insomma precisati. Abbiamo distribuzione nazionale a cura di CDA per quanto riguarda le librerie, abbiamo LS distribuzioni per quanto riguarda le biblioteche, abbiamo anche la distribuzione all'estero e ci affianchiamo anche a grandi magazzini tipo Facebook, ovviamente Amazon eccetera, quindi i nostri titoli sono reperibili su tutto il territorio nazionale. Progetti per il futuro, oltre ad ampliare la parte riguardante i fumetti, che noi facciamo anche fumetti ed ebook, stiamo pensando anche di iniziare il settore delle riviste online, quindi avendo anche la casa editrice un grande network di siti internet, vogliamo cercare di raggiungere il nostro pubblico non solo attraverso questi libri, ma anche attraverso il web molto più fruibile ultimamente e poi infine attraverso queste riviste digitali che ultimamente insomma hanno un loro seguito, quindi vogliamo tentare poi nel mio futuro questa strada.